benvenuti alla tg no la disinformazione a casa vostra oggi si parla per l'ennesima volta di calcio ma non giocato scommettete di che cosa parleremo indovinato bufera in casa catania quanto pare la squadra etnea ha comprato sei partite cinque delle quali vinte ed una sola pareggiata è finita in pareggio forse perché è stata pagata con un assegno post datato polvirenti e cosentino agli arresti domiciliari giocheranno in casa per almeno i prossimi due mesi il sindaco marino ha chiesto ai due dirigenti rossazzurri se potevano ricoprire il ruolo di assessore allo sport del comune di roma capitale sgomento in città la squadra di calcio forse perderà la categoria e si dovrà ricominciare dai tornei schiette con san mario data nelle intercettazioni si faceva riferimento all'orario dei treni per identificare i calciatori da corrompere per gli investigatori scoprirgli è stato un gioco da ragazzi in sicilia le ferrovie viaggiano con giorni di ritardo nuove opzioni per la costruzione del nuovo stadio di cocca o piazza lanza ed ora andiamo con la nostra rassegna stampa il faglio si riparte da caricabotte la figici chiede per i siciliani una condanna esemplare per far dimenticare il parma la lazio e i debiti spalmati della roma non si esclude un torneo di fazzoletto o la partecipazione di diritto alle fasi finali degli europei di briscola in cinque league nella foto un primo esempio di torneo di caricabotte andiamo all'avanzi il treno dei desideri terremoto in casa catania in manette presidente ed amministratore delegato per comprare le partite nelle intercettazioni si parlava di treni da prendere a fregarli un catania trapani che avrebbe impiegato poche ore che ingenuità poche ore si ritorna in studio e nel ringraziarvi per aver concesso noi di disinformarvi una canzone che vi può far digerire meglio queste notizie di rino gaetano mio fratello e figlio unico perché è convinto che chinalia non può passare al prosinone perché è convinto che nell'amaro benedettino non sta il segreto della felicità